Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un caso di impianti juxtaosei o sotoperiostali che permettono di rimettere i denti fissi anche in quei pazienti che hanno perduto completamente l'osso in mandibola. Quello che vedi è una mandibola completamente atrofica, il paziente abbiamo posizionato nella parte anteriore qua degli impianti dentali e volevo farti vedere questo caso specifico per dimostrarti come è possibile mettere questi tipi di impianti e evitare quindi di mettere i denti nella parte inferiore senza il sostegno degli impianti posteriori. Molti ti diranno che il caso verrà risolto egregiamente con la tecnica all on for con i denti fissi magari in giornata senza però dirti che se non c'è l'osso dietro i denti poi si spaccano si rompono in quanto masticando è proprio dietro che noi sviluppiamo le forze masticatori. In queste zone è meglio avere degli impianti che reggano il carico masticatorio e se l'osso non c'è come in questo caso perché quello in viola che il nervo passa vicino al profilo dell'osso non c'è più altro modo di rimettere sostegno nelle zone posteriori se non con degli impianti fatti su misura. Questi sono impianti che vengono disegnati col computer fai attenzione perché questi devono essere uniti poi a degli impianti nella parte anteriore per reggere i carichi masticatori e evitare che si dislocchi l'impianto. Ci sono in più le viti da osteosintesi che entrano dentro a questi fori che ancorano l'impianto alla parete dell'osso e grazie al computer evitiamo di tranciare il nervo proprio grazie alla progettazione computer guidata. Questo era un piccolo caso di impianti basali sotto periostali bilaterali messi su entrambi i lati della bocca che poi unendosi con gli impianti che verranno messi qua nella parte anteriore andranno a ridare sostegno anche alla masticazione evitare che il paziente butti dei soldi andando a creare la tecnica all on for non sostenuta nelle zone posteriori quindi denti senza impianti dietro. Alcuni pensano che questo intervento possa costare la verità è che non sanno quanto gli costerà non mettere questi sostegni dietro. Questa è l'ultima chance per questi pazienti di riavere la masticazione sostenuta in maniera corretta evitare di buttare i soldi.